Bentornati sul canale. Qualche argomento c'è. Ieri peraltro è stata la notizia, l'indiscrezione da Bloomberg circa dei rallentamenti, delle frenate sull'asse Pimco-Suning per quanto riguarda il prestito, che sappiamo dover essere elargito alla proprietà dell'Inter, da una parte per onorare e quindi saldare il vecchio prestito con OCTRI datato 2021, in scadenza 20 maggio, quindi fra quattro giorni, dall'altra per ripartire con nuova solidità finanziaria. È un argomento chiaramente molto caldo. Siamo agli sgoccioli, non avevo dubbi, ci sarebbe stato qualche colpo di coda e tutto credo rientri nella normalità, anche della grandezza dell'affatto. Quello che posso dire al momento, perché ragazzi parliamoci chiaro, se ieri un famoso, diciamo così, utente dei social non avesse rilanciato l'articolo di Bloomberg, oggi avremmo letto solo e soltanto calciomercato, festa, scudette eccetera eccetera. Invece c'è stata questa indiscrezione di Bloomberg che stava passando sotto traccia, è stata rilanciata sui social, poi chiaramente ripescata anche dal mainstream, come ormai è prassi. Ormai è passato il tempo in cui solo i siti web venivano tacciati di fare man bassa di notizie alture. Ormai è veramente una dinamica che comprende tutti, tv, radio, giornali, siti eccetera eccetera. Sarebbe sempre corretto citare la fonte, quello che posso dirvi io è che, almeno per quello che mi hanno assicurato, l'Inter non fallirà, si iscriverà al campionato e parteciperà a tutte le competizioni che stanno supercoppa italiana, campionato, Coppa Italia, mondiale per club e nuova Champions League. Vi ricordo che peraltro finalmente non ci sarà più il travaso una competizione europea all'altra, quindi o vai avanti in Champions, in Europa League, in Conference League, oppure vai a casa, nonché quelle che scendono, no. Quindi aspettiamo ragazzi, adesso non serve stare lì a menare il camperlaia come si diceva in tempi antichi, in tempi andati, day is gone, giorni, i giorni andati. E peraltro bellissimo titolo per chi, per chi è un patito videoludico. Dicevo, è inutile stare lì ancora a menarla, aspettiamo ancora qualche giorno, basta poco e poi sapremo tutto, tutto nei dettagli e poi ci saranno chi ci racconterà in retroscena, chi vi dirà, ve l'avevo detto eccetera eccetera, ma invece torniamo alla partita di ieri sera. Perché sapete che a me piace spaziare, soprattutto piace, voi direte, è normale visto il lavoro che fai, vabbè però in realtà piace la commistione tra calcio e comunicazione. e viene fuori, e viene fuori, dopo la scena patetica di ieri, patetica, grottesca, ridicola, pagliaccesca come l'ho definita ieri nel post partita, poi ho visto altri video, ho visto Allegri scacciare Giuntoli in maniera abbastanza evidente, anche se poi l'ha negato lo stesso tecnico bianconero nelle parole post partita, vabbè, ma quello fa parte del gioco. C'è invece una rivelazione, attenzione, attenzione, udite udite di tutto sport, che ormai da tempo ha scaricato Allegri, quando si è cominciato a subodorare la concreta possibilità di divorzio, qualcuno è partito con la campagna di scaricamento di Allegri. E tutto sport non ha fatto chiaramente eccezione. Altri sono rimasti a difesa strenua del tecnico toscano, invece altri hanno, come hanno capito che l'hanno scaricato molto, molto bellamente. E allora andiamo a leggere questo articolo di tutto sport, perché appunto non bastasse la sceneggiata di ieri, si è aggiunto altro. Allegri, evidentemente alterato, ha minacciato il direttore di tutto sport, il nigerato Guido Vaciago, ha minacciato, si stava sottoponendo all'ultima incombenza mediatica della sua serata trionfale, ma evidentemente non troppo serena, scrive tutto sport, sulla versione online, alla conferenza stampa. Ma ha trovato qualche minuto per me, scrive Vaciago. Direttore di merda, sì, tu direttore di merda, scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società. Smettila di fare le marchette con la società. A un primo invito a stare calmo e spiegarmi quale fosse la verità che stavo occultando di concreto con i suoi datori di lavoro, allegri, risposto, strattonandomi, spintonandomi e con il dito sotto il naso, ha gridato, guarda che so dove venire a prenderti. So dove... no, facciamola bene. Anzitutto, compiti ragazzi, questo ci sta sempre bene. Vengo e ti strappo... vabbè, parliamo serio. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso, scrivi la verità sul giornale. E qua ci sta bene pure... una roba così, no? E altre amenità del repertorio della rissa da bar, scrive sempre Vaciago. Intanto Gabriella Ravizzotti e dell'ufficio stampa della Juventus erano addetto della Lega Serie A, lo trattenevano, riuscendo poi a trascinarlo in sala stampa. Tutto qua. Spiace per... tutto qua. Beh, insomma, tutto qua. Spiace per chi si aspettava qualcosa di più cruento e spiace per la maleducazione di chi, soprattutto in pubblico, dovrebbe tenere altro contegno. Beh, ma Allegri non era quello che invece non aveva fatto niente l'anno scorso, nella pancia di San Siro dopo l'interjuve semifinale, sempre di Coppa Italia, no? E quindi come vedete... quando poi... come dicevo anche ieri, no? Adesso fa gioco, chiaramente, a tutto sport, a Vaciago, andare contro... scaricare Allegri, dopo averlo sannato, perché ormai non fa più parte già della famiglia bianconera. È roba nota, lo sa pure Allegri, no? Forse l'ha saputo prima Vaciago addirittura Allegri, ma vabbè, questi sono dettagli. E mi par di capire che il clima in questi ultimi mesi in casa Juve non sia stato proprio del più sereno e si spiega così anche il crollo verticale, perché un conto è la Juve che torna nei ranghi, che non era quella di vincere tutte le partite, ma un crollo verticale con quei giocatori, fino anche senza manico, beh, è veramente roba allucinante. E allora si spiegano tante cose, no? Allegri contro Giunto, gli Allegri che sbraita, Allegri contro, diciamo, la fanzine bianconera che è tutto sport, no? Voce della società, viene tacciato appunto a Vaciago di pubblicare le veline tramite la società. E allora facendo 2 più 2 c'è evidentemente un asse tutto sport Juve che ha estromesso in qualche modo Allegri, mettendolo secondo l'allenatore, deducendo quello per il suo comportamento, mettendolo in disparte, isolandone e facendone, diciamo, il capo espiatoio. Al di là di tutto, beh, beh, insomma, come dicevo ieri e come ribadisco oggi e come dicevo pure l'anno scorso, alla fine la verità viene a galla. Alla fine il campo rivela le squadre e in questo campo rivela pure altro. Un saluto.